Certi amori ti lasciano un'emozione per sempre. E così è ancora per Eros Ramazzotti e Michel Unzi che era a distanza di venti anni dal loro addio. Ancora insieme con la loro Aurora e il compagno Goffredo Cerza, il loro piccolo principe. Un nipotino che li ha resi nonni. Nonni felici e presenti con Cesare Augusto. Ma le foto scattate in esclusiva per il settimanale chi mostrano Eros e Michel in vacanza con i loro bambini a San Cassiano, in Alta Badia. Figli arrivati dopo la loro separazione. Eros ha sposato Marica Pellegrinelli e ha avuto da lei Gabriel Tullio e Raffaella Maria. Michel ha sposato Tommaso Trussardi da cui ha avuto sole e celeste. Una gita in montagna tutti insieme appassionatamente come una famiglia. Sicuramente felice. Una famiglia allargata in vacanza. Immagini che, come scrive Chi, fanno sognare i fan di entrambi. I romantici penseranno a un ritorno di fiamma, i razionali penseranno che l'amore si trasforma, che l'affetto può portare più lontano della passione. Ma tutti potranno concordare con Ramazzotti, certi amori ti lasciano, e ci lasciano, un'emozione per sempre. Certamente il merito di questa reunion va dato ad Aurora che ha sempre fatto di tutto perché i suoi genitori non fossero distanti. E ora con l'arrivo del nipotino tutto è ancora più facile.